L'assessorato regionale del turismo ha approvato il bando per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali naturali programma 2021, attività dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Sono ammissibili al contributo i programmi per la realizzazione di progetti di riqualificazione del commercio, di promozione dei centri urbani, di promozione e qualificazione dell'offerta anche sistemica di prodotto e servizi, miglioramento della competitività degli associati e miglioramento dell'accoglienza dei cittadini. Il contributo massimo che verrà concesso a ciascun centro commerciale naturale non potrà superare i 40.000 euro. La domanda potrà essere presentata a partire dalle 10 del 5 novembre 2021 fino alle 23.30 dell'8 ottobre 2021.